Isola 17, Vladimir Luxuria, so che quest'anno non tollerate i comportamenti omofobi, sessisti e razzisti e per il secondo anno consecutivo rivedremo nelle vesti di opinionista dell'isola dei famosi Vladimir Luxuria. Nel corso di un'intervista pubblicata sull'ultimo numero di chi, in edicola da oggi, l'attivista ha svelato che anche in questa edizione del game show verrà adottata la stessa linea intrapresa nelle ultime settimane di messa in onda del grande fratello Vip7. Le parole di Vladimir Luxuria al settimanale. L'opinionista ha poi confessato quali naufraghi la incuriosiscono di più e perché. E a tal proposito aggiunto. Vladimir ha ammesso di essere anche curiosa di vedere come la coppia si relazionerà con Marco Predolin e Andrea Lucicero. Non ci resta che dare appuntamento a lunedì 17 aprile su canale 5 per la prima, attesissima puntata dell'isola dei famosi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.